Sono Nico Colani di Omni Radio. Oggi volevo farvi vedere come una giornata di festa si può trasformare in tragedia. E' una giornata di festa. E sono sempre stato possessore di moto molto potenti, ma sono sempre stato attento nella guida e nel rispetto degli altri. Le moto, già da una cilindrata modesta di 400cc, erogano una potenza tale che supera la velocità visiva dei riflessi altrui. Pensate una 600 o una 1000 che saette possono essere. E molti motociclisti della domenica non si rendono conto che uscire da una curva fuori dalla propria delimitazione rischia la vita e chi se lo ritrova davanti quando si rende conto del veicolo che invade la sua corsia e non riesce a frenare o a sterzare. E spesso si risolve con un frontale senza che il motociclista o l'automobilista possa aver fatto una manovra di emergenza. Questo si riduce a dare poco valore alla propria vita. Lo stesso vale per i motociclisti come all'inizio del video. Sorpassano sicuri di riuscire a rientrare nella corsia prima che arrivi il veicolo di fronte. Come quei motociclisti che sorpassano e poi si buttano davanti alle vetture o peggio autobus o camion. Mettendo nelle mani di questi la propria vita che a sua volta devono pensare a frenare per evitare la collisione. Vi pongo questa riflessione. Kamikaze o motociclisti?